la mollo date subacqua qui dovrebbe reggere gli schizzi e dietro aperta lanciami l'acqua che gli faccio il video professor ma questi alunni come sono no questi bravi i ragazzi chi l'ha fatta scusi si può dire che te li ammelda in televisione con la l motion scusi una notizia ma lei è bagnato ma secondo lei sta sudando guardi sono sudato sono sudato fradicio perché sono in connessione proprio io no